Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPL per lavori 4 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Sempre in FIPL, code in uscita alla Strassigna e in uscita a San Miniato, entrambe provenendo da Firenze. Code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa e code tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze. A Firenze per lavori fino al 31 ottobre, in vigore restringimenti di carreggiata e di vieti di sosta in via Senese e in via Mariorsini. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!